Siamo stanchi di promesse non mantenute ed inefficienze amministrative sul completamento della Fondovalle Calore. A causa dello spopolamento galoppante delle zone interne degli alburni e del calore salernitano, non possiamo più permetterci ritardi nella realizzazione di questa indispensabile arteria stradale a scorrimento veloce. E' il grido di allarme dei cittadini che chiedono a voce alta il completamento degli altri lotti con il commissariamento dell'opera, imitando il modello d'efficienza adottato per la costruzione del ponte di Genova. Intanto questa settimana l'onorevole Luca Cascone insieme al presidente della provincia Michele Strianese saranno sul posto per monitorare i lavori. Paradossalmente nella giornata di oggi con il presidente Strianese era prevista proprio una visita al cantiere, saremmo dovuti andare sul posto, per motivi istituzionali Michele ha dovuto rinviare, io credo che lo faremo la settimana prossima e ovviamente andremo lì proprio sul posto a verificare come una parte dei lavori sono in fase di conclusione e stiamo definendo con i progettisti il percorso del lotto successivo.